Affiora una nuova criticità nella diga di Montedoglio. Non bastava la siccità a rendere complicata la situazione per tutti, visto che veniamo da due stagioni non certo all'insegna della piovosità. Il quadro che emerge ci regala una nuova problematica cui dovrà essere presto messa a mano. Il fondo del lago deve essere dragato, lo intuisce anche dal video che è stato allegato alla richiesta di intervento urgente che il sindaco di Pieve Marcelli ha spedito al presidente della regione toscana Gianni. I detriti che si sono accumulati in questi anni stanno occupando la superficie dell'impianto che svolge una funzione vitale nella distribuzione dell'acqua sia per motivi agricoli che civili. Da Pieve arriva la richiesta di intervento dunque, soprattutto ora che le superfici lasciate dall'acqua testimoniano come l'aspetto manutentivo dell'opera sia inderogabile. Marcelli nella sua lettera sottolinea che la diga abbia laminato nel corso degli ultimi 40 anni un elevato numero di piene che lo stesso Tevere e l'affluente Singenda hanno alimentato. Queste hanno riversato nel lago migliaia di tonnellate di materiali inerti che oggi sono un ostacolo da rimuovere. Per farla breve è l'occasione di metterci mano in attesa della pioggia, quella vera.